Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi parliamo di Sweet Chestnut. È indicato per persone che patiscono estreme sofferenze interiori. Questo stato può assumere le caratteristiche di una profonda tristezza a causa della quale la persona si sente quasi completamente distrutta. La sensazione di abbattimento è accompagnata da solitudine e isolamento. Il futuro appare tetro è completamente privo di una via d'uscita. Il ricorso a Sweet Chestnut è consigliato in quei casi in cui la persona è pervasa dalla sensazione di essere sull'orlo di un esaurimento nervoso. Può prevalere alla sensazione di essere stati abbandonati da Dio e dal mondo circostante. Questo stato si può instaurare a seguito della morte di qualcuno o dopo anni passati in difficili condizioni di vita che fino a questo momento sono state affrontate con coraggio e senza un solo lamento. Le possibilità di evoluzione favorite da Sweet Chestnut sono la scomparsa del senso di abbattimento e disperazione. Questa evoluzione può essere ulteriormente rinsaldata dalla scoperta della fede in un essere superiore o dalla sensazione di solidità interiore. Ciao, al prossimo fiore!